ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video lo sapete non sono un grande fan delle lenti aggiuntive per smartphone ma mostrandola credo di non dover dare troppe spiegazioni sul perché ho scelto di dedicare un intero video a questa nuova lente bisgrip di questa nuova pro series che hanno lanciato nel 2022 senza paura di ingombrare un po di più e appesantire un po di più prova a portare una qualità decisamente superiore nel mondo delle lenti aggiuntive per smartphone vedremo assieme se ha senso se non ha senso per chi ha senso e per chi no vantaggi e svantaggi se vi piace il lavoro che faccio come sempre vi ricordo che mi potete sostenere con un semplicissimo like alla mia pagina che mi farà piacere interagire con voi qualora volete lasciare un commento rispondo sempre a tutti sia qui che su instagram e su tik tok e che sul mio sito www.vincenzoodecaro.com potete trovare dei preset lightroom a soli 5 euro dedicati alla fotografia da smartphone funzionanti sia per ios che per android sia per lightroom mobile che per lightroom desktop quindi dopo aver visto il video correte a dare un'occhiata vi lascio i link qui sotto veniamo a beast grip e a questa nuova lente che hanno lanciato sul mercato innanzitutto partiamo dall'azienda beast grip insieme forse a moment seppur differente come azienda è uno dei punti di riferimento in assoluto per il mondo della fotografia del filmmaking da smartphone specialmente negli stati uniti è un'azienda americana e negli stati uniti il mercato sotto questo punto di vista è molto molto più ampia è un'azienda tra l'altro che nasce in maniera simpatica con una storia carina perché loro lanciano una campagna kickstarter che effettivamente va evidentemente a colmare un vuoto di mercato legato al mondo del grip per gli smartphone non per le macchine da presa chiaramente quindi cage accessoristica in generale e la cosa carina è che lanciano una campagna e dopo 24-48 ore viene già interamente finanziata e questo succede per ben tre volte di fila ed è così che di base nasce l'azienda è un'azienda che si rinnova costantemente stando attenta a quella che è l'evoluzione nel mondo degli smartphone gli smartphone di anno in anno evolvono il comparto camera si fa sempre più grande quindi tutta l'accessoristica che ruota attorno deve evolversi e loro sia in termini di lenti con questa pro series che in termini di grip di cage come ad esempio questo bis grip pro di cui adesso vi parlerò o come ad esempio i cage per iphone stanno al passo e personalmente non ho trovato altri brand che investono così tanto in questo qui l'ambizione è molto molto grande grande appunto proprio come questa lente rispetto alle lenti che siamo abituati a vedere per smartphone e io adesso vi parlo subito di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi che io ho riscontrato utilizzandola ma prima inevitabilmente per parlare di lei dobbiamo fare un piccolo passo indietro e parlare dei cage dove si va ad avvitare questa lente qui va fatta una distinzione bis grip ha pensato devo dire a tutto perché abbiamo una linea di cage pensata per iphone e una linea di cage pensata per android ma in realtà per tutti gli smartphone perché questo il bis grip pro è un cage universale che si è rinnovato proprio quest'anno tornando al discorso dell'innovazione per allinearsi con i comparti camera molto più grandi dei telefoni del 2022 barra 2023 ed è veramente funzionante con qualsiasi telefono possiamo andare ad allineare in tutti i modi l'attacco dedicato alle lenti possiamo andare a rimuoverlo per utilizzarlo come semplice handle questo è comodissimo e non ha problemi di allineamento legati a io adesso lo sciami 13 pro che è bello cicciotto come comparto camera legati appunto al posizionamento dello smartphone questo è fondamentale perché se lo smartphone dovesse stare leggermente storto rispetto all'asse della lente o del filtro andremo incontro a riflessi strane effettistiche in termini di deformazione eccetera eccetera rimango quindi su di lui per raccontarvi altri vantaggi suoi questo attacco lenti è rimovibile un attacco da 37 mm ma siccome loro si propongono principalmente come aziende grip per smartphone non ti obbligano a utilizzare le loro lenti su questo grip tant'è che hanno degli attacchi che vendono separatamente sul sito per andare a utilizzare anche lenti di altri brand come ad esempio moment eccetera eccetera ha un sacco di attacchi a vite da un quarto di pollice a due attacchi a slitta di cui uno personalizzabile e proprio per come è strutturato possiamo andare ad accroccarci degli accessori in maniera più semplice ad esempio sui set di shomi studios belli impegnativi belli cicciotti andavo ad attaccare sono riuscito ad accroccare attaccandolo con delle fascette un power bank da 5000 mAh che ad esempio ho ritenuto fondamentale sul set per dovermi distaccare completamente e distaccare i miei assistenti completamente dal problema batteria un filmic pro specialmente insomma si consuma molto molto velocemente su qualsiasi smartphone e secondo me è il miglior cage universale che possiate acquistare attualmente non ha rivali su iphone la situazione è differente lo vediamo subito è un cage su misura con relativi vantaggi e svantaggi il vantaggio che lo smartphone ha una copertura completa il cage è super solido totalmente in metallo poi l'universale invece è parzialmente metallo e parzialmente in plastic non influisce più di tanto sulla registrazione del suono nonostante ciò lascia libera la parte degli altoparlanti e dell'attacco della batteria abbiamo i tre tasti per andare a regolare il volume e il tasto d'accensione del telefono quindi comodissimo sul display si riesce a lavorare benissimo è super sicuro ma su questo anche anche la versione universale devo dire che non dà problemi nel senso che guardate adesso tolto la copertura frontale quindi lo smartphone davanti è nudo non fatelo a casa ma non casca manco a pagarlo che qui abbiamo una sorta di torretta intercambiabile in questo caso abbiamo sia l'attacco da 37 mm come sul il principale 37 mm che ovviamente è l'attacco a vite dedicato a queste lenti pro series che hanno proprio un diametro di 37 mm per andare ad avvitarsi attacco che in base a come viene montato può lavorare sul sensore principale chiaramente è allineato perfettamente essendo su misura o basta ruotarlo e va a lavorare sul sensore tre per nel momento in cui prima andare a posizionare il nostro teleobiettivo sulla lente teleobiettivo già esistente dello smartphone cosa che secondo me non ha molto senso che lui ha un sacco di attacchi a vite da un quarto di pollice 10 se non erro e un attacco a slitta un bel vantaggio che lui ha rispetto a quello universale è però la possibilità appunto di levare questa torretta si può andare a posizionare questa che è un attacco da 58 mm dove posso andare a posizionare un filtro nd o un'altra tipologia di filtro bisgrip fa tantissimi filtri e io ne ho un paio un loro nd e un loro black promise sono di altissima qualità ma con la comodità di averlo su tutte e tre le lenti cioè non devo più pensare di stare a ogni volta che cambio lente muovere il mio filtro nd allinearlo cosa che invece qui dove abbiamo soltanto questo attacco da 37 a disposizione dovrò fare ogni volta che passo dal teleobiettivo al grandangolo al super grandangolo devo andare a riposizionare qua l'attacco bene vediamo adesso i vantaggi le cose positive di questa lente la prima cosa per cui devo fare veramente un applauso a bisgrip è la scelta della focale o in questo caso del fattore di crop di questo 1,7 per questo perché andandola ad applicare sul sensore principale degli smartphone che tendenzialmente è di solito accostato a una focale di 23 o 24 mm quindi una focale abbastanza larga ci fa ottenere una lunghezza focale di circa 40 mm questo è un taglio secondo me bellissimo molto interessante perché è ancora incredibilmente versatile nel senso che è tutto sommato abbastanza ampio siamo sulla soglia tra un grandangolo e un normale più o meno quindi ancora ci permette un po' di adattamento di fare dei campi medio medio larghi ma ci regala tutt'altra passa su quelli che sono i campi medi, medi stretti o stretti in termini proprio di primo piano ritratti migliorano le proporzioni della nostra immagine migliorano quindi le proporzioni anche di un viso che andiamo a riprendere da vicino è ancora incredibilmente versatile in termini di usabilità anche a mano libera ci distacca quel giusto dalla tipica accoppiata, dalla tipica resa da smartphone fatta da questa accoppiata di sensorino da ormai più o meno un pollice e focale 23 mm che fa subito smartphone è un taglio che ho veramente apprezzato una scelta anche relativamente coraggiosa perché di solito specialmente nel caso di queste lenti per giustificarne un po' l'acquisto si tende a spingere sul fattore di crotto quindi di solito sono delle 2x, delle 3x addirittura in modo che ci sia uno stacco focale veramente ampio rispetto a quella del sensore principale qui secondo me invece hanno fatto una scelta intelligentissima anche perché spingendosi di meno sotto questo punto di vista hanno potuto secondo me lavorare e puntare ad una qualità maggiore chiaramente più la focale si allunga più possiamo andare incontro a dei problemi perché il numero di vetri all'interno dell'ottica è superiore altro vantaggio che ho riscontrato su questa lente è che abbiamo una perdita di sensibilità minima ovvero ogni volta che andiamo a posizionare chiaramente un vetro davanti alle nostre lenti seppur in maniera impercettibile si va a perdere un pochettino di sensibilità perché la luce deve passare da un vetro in più e quindi il sensore in teoria cattura un po' meno luce questo chiaramente dipende dalla qualità del vetro che andiamo a mettere di fronte alla lente sarebbe benissimo essere così impercettibile da potersi calcolare in zero e in questo caso vi dico forse non è proprio zero ma è veramente impercettibile e ho fatto anche dei test guardando gli strumenti di DaVinci Resolve guardando un waveform monitor e c'è una perdita di segnale veramente veramente irrisoria e fidatevi che è un elemento importantissimo specialmente se parliamo di smartphone dove ecco la sensibilità non è proprio il punto forte del sistema ottico che abbiamo in mano l'altro elemento da considerare quando posizioniamo un nuovo vetro davanti al sensore è chiaramente la perdita o il guadagno di dettaglio nella nostra immagine ve ne ho parlato più volte la lente è l'elemento fondamentale per far sì che la nostra immagine abbia una buona riproduzione delle texture un buon dettaglio complessivo che non è mai da confondersi con la più semplice risoluzione del sensore in sé sono due cose differenti la lente è importantissima se noi prendiamo un sensore di una cinepresa incredibile da 40.000 dollari e gli mettiamo davanti un pezzo di vetro che ha un fondo di bottiglia disintegriamo la nostra immagine la perdita di dettaglio è i risori i vetri sono molto molto definiti abbiamo un po' di perdita di definizione ai bordi la lente influisce anche sui micro contrasti quindi un pochettino può influire anche sui toni a livello di colore della nostra immagine e l'impressione che ho avuto è che posizionando lei davanti all'immagine tendenzialmente abbiamo un'immagine un po' più calda in generale l'immagine è un po' più morbida ma comunque il dettaglio della texture è molto buono e vi dirò visto che parliamo di smartphone dove dando per scontato di lavorare con le app stock dei vari smartphone si tende ad avere un software che pompa in maniera pazzesca la nitidezza pure troppo e la saturazione pure troppo e me è una cosa giustamente che funziona a livello commerciale ma che personalmente trovo odiosa nel momento in cui mettendo questa davanti ho una resa un pochettino più morbida personalmente non mi dispiace per niente anzi ve lo piasso proprio tra i vantaggi l'altro vantaggio è che ovviamente non influisce sulla gamma dinamica del nostro sensore e quindi ritorno all'inizio i sensori principali dei nostri smartphone sono 4-5 anni avanti rispetto ai sensori che vengono utilizzati in questo caso per i teleobiettivi c'è una differenza veramente abissale ragazzi per quanto il software sul teleobiettivo provi a fare miracoli a livello fotografico quest'anno abbiamo visto delle cose pazzesche anche perché la qualità delle lenti è aumentata a livello video ancora si soffre terribilmente e nonostante i miracoli del software appunto non appena vedete le immagini al pc sembra di guardare due camere diverse il sensore del teleobiettivo è veramente un giocattolo sugli smartphone sul sensore principale invece non è così e la possibilità quindi di avere una focale più lunga utilizzando quel sensore porta dei vantaggi pazzeschi non c'è minimamente paragone tra creare un'immagine con questa lente davanti alla camera 1x al sensore principale piuttosto che al girare con una camera 2x o 3x di uno smartphone non solo per la qualità del sensore ma anche in termini di funzioni molti smartphone sulla camera 1x sul sensore principale hanno molte più funzioni non lo so 60 fps piuttosto che l'8k piuttosto che la modalità log ad esempio che sullo Xiaomi 13 Pro funziona solo sulla camera 1x piuttosto che il Dolby Vision che anche lì funziona solo sulla camera 1x quindi hai anche tutto un supporto software molto più alto un altro vantaggio che mi sento di comunque nominare è che tutto sommato è relativamente piccola è una lente che pesa tra i due e i 300 grammi viene fornita nel suo sacchettino con i suoi tappi back e frontale gli sgrippi in questo ha una cura pazzesca lo vedrete se mai acquisterete un loro accessorio e tutto sommato appunto non si può dire che sia un oggetto ingombrante non voglio dire che è una roba che vi portate in tasca ma proprio per un fatto di delicatezza però in qualsiasi piccola tracolla in qualsiasi zaino in qualsiasi tipologia di viaggio e quindi di zaino a cui associate questo viaggio secondo me lei ci può stare ultimo vantaggio ma questo è molto scontato visto l'utenza e il tipo di utilizzo per cui si propone ha una ghiera frontale in cui possiamo andare ad avvitare dei filtri in questo caso è una ghiera da 62 mm a cui possiamo associare gli ottimi filtri bisgrip io ho un loro ND e un loro Black Promised magari a loro dedicherò un video a parte non ho dei filtri adatti in termini di diametro nel senso che a me hanno inviato dei filtri da 58 mm e questo è un diametro 62 mm questo vuol dire che devo applicare prima un adattatore ma questo vuol dire che la grandezza della mia lente vada ad aumentare e quindi ho un rischio di iniettatura molto molto alto questa cosa credo sia veramente visto che questa è una serie nuova in fase di aggiornamento ed usciranno dei filtri ad hoc nessuno ci vieta di comprare dei filtri anche di un altro brand da applicare davanti alla nostra lente un'ultima cosa che vi volevo dire non saprei se funzionerò tra i vantaggi ma ho notato l'accortezza come è presente su molte lenti e anche professionali di avere la possibilità di andare ad aprirla cioè ci sono due piccolissimi intagli qui dove di solito si può andare tramite degli strumenti a svitare l'anello che blocca la prima lente ed eventualmente aprirla per pulirla in caso di polvere che va dentro muffe eccetera non l'ho provata così a fondo da dirvi se allora la costruzione è solidissima si vede, si sente non vi so dire se nel tempo più o meno facilmente si potrebbe accumulare polvere all'interno eccetera eccetera sotto questo punto di vista non vi so riportare un parere ma ho notato questa accortezza che insomma è chiaramente una cosa non adatta a tutti bisogna sapere dove mettere le mani altrimenti bisognerebbe portarla in un rental dove hanno un laboratorio che si occupa di questo forse è un po' un'esagerazione però la possibilità c'è è una cosa apprezzabile andiamo invece agli svantaggi alle cose che ho trovato un po' poco funzionali rispetto a questa lente prima cosa allora come vi accennavo perché il cage permette un allineamento un po' più vicino alla lente originale dell'iPhone a lato video questa è una lente principalmente secondo me da usare lato video che è il lato anche foto però dove il nostro il nostro angolo di campo è molto più largo non ho riscontrato vignettature con il cage di Android comunque la vicinanza con la lente originale dello smartphone ovviamente è un po' è un po' superiore ho riscontrato problemi di vignettatura specialmente nel momento in cui magari utilizziamo delle modalità Pro disattivando le stabilizzazioni quindi abbiamo l'angolo di campo e la superficie di sensore maggiore possibile lì si nota abbastanza anche nel momento in cui andiamo soprattutto a fare dei movimenti anche abbastanza veloci diciamo proprio intravediamo questa vignettatura che quasi si muove svantaggio che proporzionalmente da una parte dall'altra aumenta nel momento in cui vogliamo andare a mettere dei filtri perché quando andiamo a mettere dei filtri davanti la lunghezza fisica della lente aumenta e quindi la probabilità di avere una vignettatura aumenta a sua volta questo è un po' lo svantaggio di avere una lente così grande che si allontana così tanto dal piano focale inevitabile sotto certi punti di vista per per un fattore di qualità per avere una buona qualità ma che poi ecco può portare a questo genere di problemi chiaramente non la rende inutilizzabile questa cosa basta farci attenzione dipende un po' dal modello di Android che avete io avendo un 13 Pro col sensore da un pollice quindi un 23 mm quindi un angolo di campo particolarmente ampio rispetto alla concorrenza ho riscontrato questa cosa ma già attivando la stabilizzazione che fa quel piccolo crop sull'immagine questa cosa scompare su altri modelli magari questo problema proprio non sussiste ecco quindi come sempre su Android modello per modello dovrete andare a verificare questa cosa ma è impossibile che non sia risolvibile o che vi renda inutilizzabile la lente altri svantaggi in termini di utilizzo che vi dico già non li ho trovati diciamo che posiziono tra gli svantaggi ma parliamone il costo non tanto il costo della lente in sé ma il costo più in generale per far sì di avere un po' tutto quello che serve per utilizzarla al meglio e qui arriviamo poi anche alle conclusioni per valutare effettivamente a chi serve questa lente se ha senso o non ha senso il costo di questa lente si aggira intorno ai 200 euro Bisgrip è un'azienda americana quindi dovete sempre considerare il fattore di importazione eventuale dogana eccetera ci sono alcuni rivenditori europei tedeschi eccetera su cui potete potete trovare dei prodotti Bisgrip quindi se siete fortunati potete acquistare da lì fatto sta che di lei da sola non ve ne fate assolutamente nulla i cage hanno un costo che va più o meno dai 130 ai 140 dollari per il Bisgrip pro il vantaggio di comprarlo una volta e poi funziona su tutti gli smartphone per ios lo svantaggio di se cambiate l'iphone ogni anno di doverlo cambiare ogni anno ma poi avete visto hanno dei pro e dei contro differenti anche in termini proprio di comodità di utilizzo poi però tutta l'accessoristica in più si paga ad esempio questo attacco comodissimo per andare a prendere i filtri che forse è il primo acquisto che farei se siete utenti di iphone in questo caso perché per portare la nostra ripresa a un livello professionale la prima cosa che ci serve parlando di ripresa in esterno è un filtro ancora più che una lente aggiuntiva quindi forse questo è l'acquisto madre ecco questo attacco ha un costo in più filtri stessi hanno un costo in più che non è proprio piccolo rispetto alla concorrenza sempre perché Bisgrip punta sulla qualità è un brand ragazzi che punta sulla qualità perché nel mercato suo di riferimento viene utilizzato dai professionisti principalmente quindi ecco per iniziare tra virgolette dignitosamente ad approcciarvi a questo brand se vi interessa ciò che avete visto secondo me l'investimento iniziale minimo è intorno ai 400 euro e quindi per chi è pensata può fare al caso vostro cosa ne penso io mi ripeto il mondo delle lenti aggiuntive per smartphone non è un mondo che mi fa impazzire per tutta una serie di ragioni però le uniche lenti che effettivamente possono avere senso in questo mercato sono due una è la lenta anamorfica infatti ve l'ho già portata sul canale e questo perché può restituirci una tipologia di effetto e sfruttare il sensore in un modo che altrimenti non potremmo sfruttare quindi ha tutta una serie di motivazioni per cui può avere senso pur essendo una lente molto di micchia l'altra tipologia di lente è proprio un teleobiettivo questo perché il divario tra sensore principale e il sensore dedicato ai teleobiettivi nel mondo degli smartphone è ancora non grande abissale e un teleobiettivo di qualità da applicare davanti al sensore principale fa tantissima differenza qui abbiamo un'azienda che merita molta fiducia che punta sulla qualità che si rinnova costantemente quindi che in un certo qual senso non vi lascia soli nel momento in cui decidete di fare l'investimento se ne vale da pena o no lo dovete capire voi come sempre se siete dei professionisti che utilizzano anche lo smartphone per lavoro che sia a livello giornalistico che sia in termini di youtube che sia su set documentaristici che sia perché fate ritrattistica a livello fotografico eccetera eccetera e spesso vi capita di utilizzare lo smartphone ne vale la pena appunto è un acquisto secondo me quasi obbligato perché se lo fate per lavoro è quelli che un investimento di 400 euro su uno smartphone probabilmente ormai da più di 1000 euro è una proporzione che ci sta a maggior ragione se appunto lo fate per lavoro quindi è un investimento sulla vostra attività se siete degli appassionati può aver senso se diciamo che il rischio è più grande quando si comprano questi accessori e che si utilizzino per un paio di settimane poi finiscano nel cassetto ecco valutate voi se siete degli utenti che ecco all'occasione giusta perché è una lente in cui il caso da utilizzare non sempre ma all'occasione giusta quindi un viaggio una ricorrenza anche fosse soltanto in famiglia insomma se vi dilettate in un contesto o in un altro a fare dei video ci tenete siete appassionati di questo settore può benissimo avere senso certo è un investimento bello tosto quindi valutate bene io vi ho detto la mia in termini qualitativi non ci sono dubbi quindi poi se ne valga la pena o no lo dovete capire voi in base al vostro utilizzo per questo video è tutto spero come sempre che vi sia stato utile e se vi è stato utile mi raccomando supportatemi con un commento vi rispondo sempre qualsiasi dubbio che avete riguardo a questa lente bisgrip chiedetemelo non ci sono problemi e vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram su TikTok dove trovate dei contenuti differenti piccoli tutorial legati alla smartphone fotografi eccetera eccetera e poi sul mio sito vincensotecaro.com trovate anche piccola chicca dei preset Lightroom dedicati alla fotografia da smartphone funzionanti sia su iOS che su Android sia su Lightroom Mobile che su Lightroom Desktop e sono ancora in offerta 5 euro se odiate fare editing ma volete portare il look delle vostre foto a un livello superiore grazie a loro con un semplice click lo potete fare per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo